In questa giornata di certificazioni ho imparato la forza del gruppo, soprattutto attraverso il mastermind, perché condividere con altre persone le proprie idee, i propri progetti, ci ha aiutato a tirare fuori delle caratteristiche e delle nuove soluzioni a quelli che potevano essere per me dei problemi. Quindi è stata proprio una bellissima giornata di condivisioni e vedere proprio come la condivisione aiuta a crescere. Perciò ringrazio Giuseana Maria per aver creato l'Energeti Club e aver dato la possibilità a tantissime persone di aumentare la loro consapevolezza e soprattutto di vivere una vita più felice, più serena e più appagante, soprattutto la mia. Grazie. Ciao, mi chiamo Ciro e ho appena partecipato alla giornata di consegna delle certificazioni per l'Energeti Club di Giuseppe Scafarelli e Anna Maria Ghinet. È stata una giornata molto interessante, ma soprattutto il messaggio che ho per te è che se davvero sei intenzionato a fare un primo passo concreto verso la realizzazione di te stesso, iscriviti al club. Ciao a tutti, sono Eleonora Camillo, sono iscritta all'Energeti Club da due anni e se non avete ancora fatto questa esperienza ve la consiglio. L'anno prossimo spero di riuscire a prendere anche io le certificazioni perché quest'anno non ci sono riuscita e ringrazio Anna Maria Ghinet e Giuseppe Scafarelli per il loro aiuto quotidiano, si può dire. Grazie. Ciao, mi chiamo Giovanni, oggi sono qui a Malta alla giornata di conseguimento dei certificati per il termine del percorso con l'Energeti Club, un club online in cui una volta al mese, assieme a Giuseppe Scafarelli e a Anna Maria Ghinet vengono sviluppati dei temi legati a spiritualità e ricchezza. In particolare volevo condividere con voi che in questa giornata abbiamo partecipato ad un mastermind con tutti i partecipanti dell'Energeti Club in cui ognuno ha proposto una propria dinamica e grazie alla forza e allo spirito di gruppo abbiamo avuto delle risposte più ampie rispetto alle nostre dinamiche e questo ci ha arricchito. Grazie. Ciao, sono Mariella, faccio parte dell'Energeti Club dal 2013, quindi da quando è iniziato questo percorso e in queste giornate dove c'è la certificazione è un'occasione importante perché abbiamo tutti quanti modo di fare un riepilogo di tutto quello che è stato il percorso e quindi è importante riprendere tutti i concetti è un ricordare e un andare a rivedere alcune dinamiche che si sono presentate nelle serate che sono state fatte quindi è una giornata per me utilissima e importante. Ciao, grazie. Oggi ho assistito alla certificazione dell'Energeti Club è stata veramente una bella esperienza da poter vivere come i ragazzi hanno acquisito consapevolezza rispetto ad alcune tematiche c'è stato un altro momento che è il mastermind dove io per la verità ho ricevuto del come magari unendo insieme più menti in realtà riesci a creare delle soluzioni a delle problematiche che magari tu neanche pensavi che potessi da solo riuscire. Invece c'è stata una sorta di visione dell'insieme e da lì è uscito fuori il risultato giusto che magari serviva per la missione della tua anima.